Pronto soccorso di Arezzo, il Covid è ritornato a far parlare di sé nella seconda ondata, com'è la situazione? Appunto la situazione è diciamo luci ed ombre, nel senso che gli accessi pronto soccorso per problemi legati all'infezione sono naturalmente aumentati e abbiamo oggi un numero di positivi che forse sono superiori a quelli che avevamo avuto nella prima ondata. Non possiamo reggere a questa seconda onda d'urto proprio perché c'è invece una riduzione degli accessi al pronto soccorso per patologie diciamo così normali e soprattutto per le basse intensità. La gente quindi ha capito che alcune cose si possono affrontare in maniera diversa e non venendo al pronto soccorso e questo ci aiuta molto perché purtroppo i pazienti positivi sospetti tali assorbono molte risorse e ci assorbono molto tempo. Ci sono sempre i percorsi separati, li avete riattivati, ammesso che li abbiate mai tolti? No, non li abbiamo mai tolti, ci sono sempre i percorsi separati e anzi stiamo migliorando ancora questa separazione facendo dei piccoli lavori murari che permetteranno di avere una sala d'attesa per i parenti che non possono ovviamente entrare dentro. Purtroppo ci sono ancora limitazioni molto forti sull'accesso al pronto soccorso delle persone e degli accompagnatori che non possono entrare, non possono venire a visitare i parenti congiunti in osservazione maio nato. Grazie. Grazie.